Buongiorno a tutti amici, guardate un po' di cosa non ne posso io più tutto questo grigio freddo. Eh sì, aspettando di tornare a vivere sulla mia amata isola Fuerteventura, ci facciamo qualche chiacchiera. Mi è capitato di vedere commenti su argomenti bollenti che riguardano Fuerteventura. Bollenti vuol dire sempre il discorso case legato al lavoro, quindi una volta mi va di rispondere anche in maniera un po' diversa a dei commenti che a volte vengono fatti in maniera forse un po' troppo facilona su ah Corraleco, Corraleco, Fuerteventura non è tutta Corraleco. Ok, in parte è vero, ma ci sono delle ragioni per cui molti comuni mortali poi scelgono Corraleco o le località più care. E ora ne parliamo, perché pure a fa abbastanza insomma tutti pescemi anche no. Ho promesso più diplomazia, quindi non mi scaglierò contro le persone che sostengono certe cose, ma parlerò degli argomenti in sé. Siccome mi è stato fatto notare da amici un video appunto di altre persone che fanno video da Fuerteventura, però con la differenza di far video allo scopo di vendere case, quindi ovvio che poi sono orientati tra virgolette in modo editoriale in un certo modo quei video, dove si parlava allegramente del fatto che comunque una coppia a Fuerteventura trova, volendo facilmente casa, 500 euro. Allora, a me e a chiunque io conosca si sono accesi tutti gli allarmi stronzata, 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 perché obiettivamente ragazzi, cioè, non è la verità di quell'isola. Allora, questo non vuol dire che aprendo immobiliare.it, fotocasa, mitula, tu casa, pisos.com, li conosco tutti proprio, tu non sia in grado di trovare un appartamento più o meno su 500 euro, anche se parliamoci chiaro, è rarissimo in ogni caso, rarissimo in ogni caso. Ma per chi conosce l'isola sappiamo bene di che ambienti parliamo, no? Parliamo, ad esempio, a volte del posto dove vivono questi youtuber, che si chiama Parcolandese, per cui o fai un certo tipo di vita che è un po' anche rinchiusa già nel suo cerchio, oppure sinceramente, cioè, ma come fai a vivere un posto come Parcolandese, che già solo se hai un figlio adolescente che si deve muovere si dovrebbe fare non si sa quanti chilometri a piedi in questo microcosmo chiamato Parcolandese, di cui poi c'è una parte bella, una parte martoriata, per arrivare forse a una fermata di un autobus fa... Quindi, parliamo della verità. Le persone che si trasferiscono su quell'isola pensando di fare una vita normale con un lavoro normale, normale vuol dire o come autonomo o comunque magari uno stipendiato, vuol dire non un grandissimo investitore, un grandissimo imprenditore, un grandissimo speculatore che per quanto sia sono la minoranza, no? Per fortuna, o non per fortuna, a secondo dei punti di vista, però obiettivamente i comuni mortali sono la stragrande maggioranza della gente. Allora, non è che siano tutti deficienti e tutti amino la vita frenetica di Corraleco, ad esempio, è che così come si possono prendere i giornali che mostrano annunci mobiliari, potete dare un'occhiata pure ai giornali che mostrano gli annunci di lavoro. Per cui tanta gente che va lì e va lì cercando magari poi un lavoro come cuoco, come aiuto cuoco, come cameriere, come aiuto cameriere, come barman, come tutti questi lavori che sono il grosso dei lavori dell'isola, perché è un'isola che vive di turismo, ma indovinate un po' voi dove è più facile che troverà lavoro una persona? Dove c'è più turismo! Quindi fondamentalmente a Corraleco, Cotiglio, al sud morrocabile mi dicono di sì, è una realtà che conosco meno, ma ovviamente laddove c'è più turismo, quindi anche più case vacanze, quindi quasi zero case per chi abita là. Quindi ora capite perché una persona che pensa di fare una vita sull'isola, per cui magari rinuncia anche a uno stipendio più alto, perché gli stipendi, l'abbiamo parlato, lì sono bassini, perché d'altronde case a parte si spende meno, perché la spesa comunque un po' meno costa, quella normale per non parlare delle sigarette, per non parlare della benzina, per non parlare di andare a consumare seduti a un bar o una cosa, comunque si risparna. E uno poi si dovrebbe ritrovare una vita in cui, per fare un normale mestiere con cui è in grado di mantenersi, dovrebbe vivere da pendolare su quell'isola, che tra l'altro tra un posto e l'altro c'è il deserto e il nulla, eccetera, e per cui anche lì una vita costretta o i mezzi, abbonamenti, o un tram tram di movimento quotidiano da pendolare che ripete, poi alla fine una vita che uno aveva voluto lasciarsi alle spalle? Beh, direi che è questo il punto. Non si cerca spesso casa in alcune località, ma si finisce a vivere. Oggi, oggi non è il mio caso perché porterò con me il lavoro che sto facendo, però in generale una persona che tenta di trovare lavoro si rega dove c'è più lavoro e ovviamente tenterà anche di vivere in quel posto, anche perché altrimenti un lavoro già poco retribuito verrà ulteriormente impoverito dal fatto che comunque spostarsi costa, che sia con la macchina o con i mezzi. Quindi uno fa una vita da pendolare, povero, a forte ventura, e poi ci si chiede perché la gente guarda soprattutto con ralefa, perché c'è più lavoro, perché dove c'è lavoro e più turismo c'è un po' tutto quello che ruota attorno, una vita normale, a meno che uno non fa un lavoro totalmente autonomo, digitale, online o di altro tipo, per cui va bene, puoi vivere pure appunto a Parco Landese o Antigua o in zone periferiche, magari appunto dietro la centrale elettrica di Puerto de Rosario, per quanto in salubre sia, e vabbè sì, un affitto basso lo scuci pure, ma la realtà è che per fare una vita altro che di coppia normale, che più o meno vive anche vicino a dove abita, è veramente molto complicato coniugare lavoro e casa, riuscendo a sopravvivere al bilancio. Come al solito, certi tipi di video eccetera, non sono indirizzati purtroppo alla persona media che vuole cambiare vita e andare a vivere a forte ventura per quello che quest'isola e in generale le Canarie danno come cambiamento di vita, di formalità, di ambiente, di atmosfera pure climatica, di libertà mentale. No, sono semplicemente un richiamo a o quei pensionati o pensori che hanno preso appunto un TFR per cui hanno dei soldi da investire, venite qua e comprate, o giovani figli di papà per cui, che magari non sanno fare niente o granché nella vita, oppure che per cui magari appunto papà ricco dice te te sti soldi investi almeno qualcosa nella vita ti rende. Cioè ci sta tutto un panorama di persone che hanno in realtà più che un mestiere umano una possibilità economica di investimento e la stramaggioranza dei post su Facebook, dei video su YouTube e di tutta una serie di specchietti per le allodole che girano online, apparentemente volendo raccontare l'isola perché è interessante l'isola, no, in realtà è tutto un marketing rispetto al mercato immobiliare. mercato immobiliare che invece chi parla fuori da certi interessi economici continua a ribadire, a scandalizzarsi anche dell'ipocrisia che c'è dietro al dire che facilmente si può trovare una casa per una coppia normale a 500 euro al mese perché veramente è una presa per il culo un po' troppo offensiva per i comuni mortali normali a meno che appunto non vuoi vivere in zone che sono un disagio le zone stesse per cui dici certo vivo a 500 euro al mese e te credo, così lo trovavo pure a Roma, un garage della miera nell'estrema borgata a 500 euro forse, cioè direi che a vivere così non ci vuole insomma granché, noi parliamo di una vita civile possibile, umana e anche di una qualità della vita decente che tutti meritano e allora su questo forse bisognerebbe prendere un po' meno in giro le persone, smettere di speculare non ci si spera nemmeno, però almeno dire la verità su come è diviso il mondo, persone a cui interessa far fruttare un loro capitale tot qualunque cosa succeda dietro a questo movimento se lo fanno poi in tanti e persone che invece semplicemente in modo stavolta sì spero un po' più diplomatico, meno polemico, però semplicemente vi riportare un po' di verità perché mi vengono pure segnalati certi video di non dire più sì cavolate per cui poi in realtà si trova facilmente, basta non stare solo a corraleco, ok? va bene, allora create il lavoro ovunque, fuori anche da corraleco, dal quotidiano e vedrete quanta gente va volentieri a vivere a Parco Landesso se si riempie di ristoranti, bar e posti dove si lavora, a Puerto del Rosario se opportunità del lavoro ce ne sono molte di più, ad Antigua o Betancuria, meravigliose città che non sono sul mare che però forse se incroci due persone per strada ti sembra un'epifania, ecco un po' di verità stamattina mi veniva di dirla su questo a causa di chiacchiere fatte al telefono. Detto questo vi continuerò appunto a aggiornare sui miei movimenti ma per ora rimane il mio su e giù ad aprile, ieri ho parlato anche approfonditamente con una delle maestre di Nathalie per cui sì, bisogna tenere un po' duro e finire almeno fino a fine maggio qua e fatela finire bene la quinta elementare, ben felici che non andrà direttamente alle medie, no perché in Spagna c'è un anno in più, la sesta elementare, per cui la sensazione di chiudere un ciclo qua con l'elementare e poi il prossimo anno chiudere un ciclo là è buona prima di passare alla ESO che è un gradino successivo e pure quello tempo al tempo ve ne parlerò quando sarà il momento giusto. Per adesso buongiorno di nuovo a tutti e a prestissimo. E quindi oggi vi saluto evocando una parola che è la parola in nome della quale secondo me poi io continuo a interessarmi a certi temi cercando di farlo sempre più pacatamente e in modo esplicativo più che aggressivo come a volte sono stata percepita e la parola è sostenibilità che è una parola bellissima e riguarda anche tantissimo la natura, quanto la danneggiamo, l'impatto ambientale che certe cose hanno proprio anche fisico, no? Paesaggistico, Forteventura è anche stata devastata da interi abitati e quartieri costruiti appunto su parchi naturali, zone protette, patrimonio dell'umanità. Ma a parte questo la sostenibilità è anche la sostenibilità sociale, umana di un ambiente che si crea. Una sostenibilità che è fatta per esempio del fatto che si è fatto insostenibile il clima immobiliare, che la gente davvero, al di là di tutte le retoriche e degli apparenti battibecchi, ha soldi da pagare un affitto e dorme in macchina e quando le cose sono messe così, ripeto, non c'è un esercito di stupidi che non è disposto a staccarsi dalla spiaggetta a cui è abituato, non è fatta così quell'isola. C'è un'insostenibilità di alcuni tipi di speculazione che hanno rovinato l'ambiente di vita di persone che non ci passano lì soltanto una settimana l'anno per la vacanza o non lo reputano un salvadanaio dove andare a mettere i soldi e cercare di pensare che poi li fruttano, persone che in realtà la fanno come scelta di vita. quella di vivere in un posto così per tutto, quello che può dare. Quindi sostenibilità in tutti i sensi. Cerchiamo di far sì che ogni luogo del mondo per le caratteristiche che lo connotano possa avere una sua armonia di vita naturale e umana insieme.